Stava lavorando allo smontaggio di una gru assieme ad un collega quando una struttura aggiuntiva del manufatto montata per eseguire i lavori di rafforzamento alla banchina del Molo Terzo del Porto Vecchio di Trieste lo ha letteralmente travolto. Il cinquantotenne Daniele Zacchetti è morto sul colpo schiacciato dall'immane peso delle travi d'acciaio. L'incidente è accaduto quando gli operai stavano smontando i perni di sostegno della struttura. Qualcosa evidentemente è andato storto e purtroppo l'uomo in quel momento si trovava proprio sotto al braccio della macchina operatrice. Inutili tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso attendendo l'arrivo del medico legale Fulvio Costantinides nell'area di Punto Franco interdetta per ore all'accesso degli stessi addetti portuali pure con qualche polemica dei sindacati ai varchi d'accesso quando a causa delle indagini sono rimasti fuori anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il 5 di novembre il caposquadra della ditta Zemiro Pasquale assieme ad un collega stava completando l'opera di recupero delle attrezzature che erano state portate via alla spicciolata nell'ultimo mese e mezzo. Zacchetti residente a Camponogara nel veneziano era un grande esperto del settore di Ile. Bocche cucite nessuna dichiarazione né commento ai cancelli dell'azienda sita nella zona industriale di Mira in provincia di Venezia. Il collega di Zacchetti ancora sotto shock dopo l'incidente è stato sentito al tribunale di Trieste davanti al PM di turno. Stando a quanto riferisce la procura restano ad appurare eventuali responsabilità o meno da parte della ditta. Un appalto esterno che non ha nulla a che fare con le aziende operanti in quel settore del porto. I rilievi nell'area dell'incidente si sono protratti per tutto il corso della giornata da parte di polizia, dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria e vigili del fuoco. Informate dell'accaduto le organizzazioni sindacali USB, CGL, Cisle e Will hanno deciso di proclamare uno sciopero generale del porto di Trieste a partire dalle 12 di oggi e per tutta la giornata.